Ho la certezza che ho mandato dei messaggi belli, perché il mio obiettivo è sempre quello. Comunque mantenere una vibrazione alta e luminosa, quindi si deve dare dei messaggi. Mi mando con l'intento di trasmettere un messaggio. Ciao Eleonora, come stai? Bene. Vado a sensazioni che cambiano molto rapidamente, però nel complesso direi che vivo una serenità costruita giorno per giorno. Con quale nome sei conosciuta? Eleonora Montagnana. Gli familiari mi chiamano Nora e il mio nome d'arte è Orange. Che lavoro fai? La violinista e anche l'attrice, dai, ho studiato per fare anche quello. È ciò che sognavi da bambina? Sì. Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Nel tempo libero mi piace occuparmi della casa, fare la spesa, giocare col mio gatto, pulire. Cosa da massaia. È una cosa terapeutica. Non come... è come magari le altre persone possono fare come cose che devi fare tra un lavoro e l'altro, invece per me sono impegni che li vedo proprio come una cosa a cui devo dare dedizione. Quando hai iniziato sui social e perché? Io avevo la passione dei social da quando sono nati. Quando è nato Facebook io mi sono fatta subito il mio profilo e lo consideravo come un diario mio personale. È un modo per rimanere in contatto con i musicisti che vedevo magari in qualche produzione dall'altra parte d'Italia. Lo vedevo tenermi in contatto con la realtà mia musicale. Poi è arrivato Instagram e lì ho capito che potevo esprimermi di più con le foto, trasmettere dei messaggi tramite una foto, lo stato d'animo del giorno. Quindi ero molto... cioè ero una musicista classica molto controtendenza nel mio ambiente, nel senso che avevo questa sorta di modalità di esprimermi, un po' frivola per quelli del mio ambiente, ma mi trovo molto mio agile, quindi l'ho coltivata tanto, mi sono dedicata sempre molto, non in maniera mirata, tipo per ottenere dei risultati, perché non avevo questa ambizione sui social. Per cui no, ci ho dedicato tanto tempo, ma perché mi piaceva? Poi TikTok, devo essere sincera, ho visto un potenziale, oltre a esprimermi in modo molto mio, perché mi piace, comunque la comunicazione mi è sempre piaciuta, se no non farei la musicista. Però l'ho, diciamo, usato un po' più mirato, non a caso. Quanto è importante oggigiorno stare sui social? È importante nel momento in cui uno vede la possibilità di far sapere della propria attività. Incontro persone che non hanno i social perché non ne hanno bisogno e oggettivamente non vedrai neanch'uno. una modalità di bisogno per queste persone, perché la vita reale è la vita reale e quella rimarrà sempre, per fortuna. Però per artisti come me è molto importante, forse fondamentale. Quanto è difficile stare sui social? Sai, non ci avevo mai pensato, però effettivamente è faticoso. Faticoso nel momento in cui capisci effettivamente la portata che può avere e assaggi quello che può essere un effetto molto potenziato della sua capacità comunicativa. Per cui quando realizzi queste cose, un minimo ti viene da spaventarti, avere il peso del mantenere la costanza, stare attenti a tante piccole cose che mai in passato non ci avevi mai pensato, di dire una parola invece che un'altra che può suscitare qualcosa. Per cui è faticosissimo, poi dopo io cerco un attimo di decomprimermi nelle faccende domestiche, nella vita reale, nei concerti, però è faticoso. I social ti generano paure? Non mi generano paure, mi generano paura chi non sa usarli, ma quello è sempre un riflesso di quello che succede nel mondo. Quanto contano i numeri? Contano, contano tantissimo. Dove non contano i numeri effettivamente? Cioè un'azienda ha bisogno di numeri, la musica ha bisogno di valori, numeri. Deve essere tutto inquadrato in qualcosa, poi se uno vuole determinati risultati ha bisogno di determinati numeri. Cosa cambiaresti dei social? Penso che dovrebbe esserci una struttura più sana di come mandare virale un contenuto piuttosto che un altro. Ci dovrebbe essere un'etica, alle volte non la vedo tanto. Da quando hai iniziato i social? Ti hanno cambiata? Non mi sento cambiata, anzi mi sento che mi aiuta a essere sempre più coerente con me stessa. A dire no, certe cose non le voglio fare perché voglio piacermi nel guardarmi, anch'io. Sono molto autocritica su queste cose. Per cui no, no, non mi sento cambiata, anzi. Sei consapevole di quanto la tua persona sia influente? No, sono influente, no, dai. No, però ho fatto suonare il violino un po' di bambini, quello sì. Quello mi devo dare una pacca sulla schiena che le iscrizioni ai corsi di violino sono sicuramente salite. Tipo sai che grazie a te ho iniziato a suonare il violino, grazie a te ho preso un gatto. Ho salvato anche magari dei gattini dai gattili. Però non tanto, cioè è normale, non è che sposto le masse tutti, se no le orchestre esploderebbero. Quanto contessi originali? Tantissimo, ma tanto. Cioè se tu ti sentivi originale prima, adesso non lo sai più, devi esserlo di più. Io ho sempre avuto tanta fantasia, per fortuna. Però quando vedi tutta questa originalità effettivamente dici cavolo, non basta, devo dare di più. Tantissimo. Cosa entra a chiedere uno spettatore davanti a un format che si ripete? Sai che non lo so, perché io mi annoio dopo un po' che vedo le stesse cose. E infatti alle volte sarò un po' spietata, però mi chiedo ma come mai le persone sono interessate a questo contenuto che ho già visto comunque in altre salse. Per cui me lo sto chiedendo anch'io. Può essere la persona che comunque ci si affeziona alle persone. Uno deve essere molto bravo a fare affezionare a sé, nonostante magari un contenuto che bene o male sai che è quello. Da cosa sei ispirata? Cosa ti spinge a condividere? Ah, c'ho un bisogno impellente alle volte. Sto facendo tutt'altro e sento no, no. Questa cosa, cioè tipo sai gli invasati dell'antica Grecia che avevano il pensiero che gli sembrava che fosse una divinità che gli stesse versando qualcosa in un'anfora, no? Ecco io ogni tanto c'ho queste illuminazioni stupide, perché alla fine sono idee tipo comiche o un argomento oppure un episodio. Cioè comunque quando uno pensa alla propria vita vengono fuori degli spunti e però dopo lo scatto sta nel Ah, questo è un bel contenuto, almeno a me sembra che sia un bel contenuto, lo devo fare subito. Cos'è per te la creatività? È un'energia, no? È una dirompente. Ovviamente ci sono tanti livelli come può essere un fiume, un fiumiciatto, un fiume in piena. Ah, è comunque una massa di energia fatta di un sacco di stimoli, di bagagli del passato, di cose a cui attingi che neanche tu ne sei consapevole. Per cui uno mette insieme tutta questa cosa, l'esperienza, le proprie doti, le intuizioni, il saper guardare le cose, mette tutto insieme e si genera qualcosa. Poi dopo può essere un quadro, può essere un contenuto, può essere uno storytelling, può essere tante cose. Quanto contano le collaborazioni con le aziende? Com'è il rapporto con loro? Ti lasciano libera o ti danno vincoli che limitano la tua creatività e modo di essere? Ma io comunque quando collaboro con le aziende è un 90% un lavoro che faccio live perché mi chiamano a suonare. Mi hanno sempre detto fai tu, soprattutto se hanno visto i contenuti che faccio, si fidano. Per cui ho quasi sempre carta bianca. Questo mi piace molto. Per te stare sui social è un lavoro o lo fai più per spirito di condivisione barra voglia di creare? E' nato come la seconda, come spirito di condivisione e di creare perché ho veramente una patologia su questo campo che da quando sono piccola io devo creare, vedi il pieno di quadri no? Tu stai guardando i quadri che ho sparsi in casa perché ho questa cosa che devo esprimermi e quando sai che puoi avere un grande pubblico che te lo crei tu, che lo eduqui tu a certi contenuti, che lo fai appassionare delle cose, chiaramente è stimolante. Dici no aspetta guardate cosa vi posso mostrare, far conoscere. Poi ovviamente subentra anche la parte, ok, e anche lavoro e bisogna vivere. Da che mondo in mondo gli artisti proprio sono forse la massima espressione di quanto l'arte sia bella, ma per noi è un lavoro, ci fa vivere, non possiamo fare arte senza avere una stabilità. Lo faresti ugualmente se non ci fosse un guadagno? Sì sì, anzi, basta che ci sia almeno una decina di persone che mi ascoltano. Sì sì. Ricordi quando hai cominciato a funzionare? Lo ricordo ma l'ho realizzato molto tardi, non avevo capito, è come avere una macchina lussuosa ma non sai di averla, cioè non sai il valore di quella macchina. Dici beh bella, vedevo dei numeri ma non avevo capito che quei numeri erano persone reali, cioè non so perché non ci avevo pensato subito. E poi erano numeri, magari non erano per forza followers, magari erano views. E' un concetto, era troppo strano per la mia esperienza. Cosa ti gratifica di più di quello che fai? Vedere un percorso infinito di studi, di delusioni, di piccole soddisfazioni, un percorso che sembrava infinito, trovare il proprio collocamento e già quella è una fortuna. Io sono proprio grata quando mi chiamano a suonare in giro, situazioni belle, non convenzionali, ma anche quelle più semplici perché alla fine poi tutto nell'insieme è variegato. E sono proprio grata proprio di essere lì a portare il frutto di tanti sacrifici. Cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? Guarda, ogni giorno ti giuro, dico, se mi va male come violinista faccio questo. Boh, cioè veramente ti giuro, guido così tanto che dico, ma io sono brava a guidare potrei fare l'autista. Se mi va male metto un annuncio autista disponibile a girare tutto il mondo mille ore consecutive. Oh, non so, faccio le pulizie di casa. Oh, se mi va male vado a fare le pulizie perché come pulisco io non pulisce nessuna, ti giuro. Oh, non so, mi piace le acconciature, avrei fatto la parrucchiera molto volentieri. Mi piacciono gli animali, magari, non dico la veterinaria perché non ho quel tipo di abilità, però non so, qualcosa legato alla natura, la giardiniera, la fioraia. Comunque sempre materie, cioè lavori manuali, sì, tutte queste cose così. E mal che vada faccio la social media manager per qualcun altro. Dove ti vedi in futuro? Io non ho paura a dire perché penso che chiami questa, esporre in propri sogni, chiami proprio la realizzazione di quei sogni lì, di quelle energie. Per cui io mi vedo su dei palchi importanti, onestamente. Ma anche se è tardi, fra 50 anni. Rifaresti tutto? È stata tutta una cosa, anche belle e brutte, ma tutte con un catenamento di cose che mi hanno portato a essere qui. Per cui sì. Chi è Eleonora? Cosa non sappiamo di te? Alle volte penso, oh, sono così riservata sulla mia vita, su quello che faccio nel mio privato. Ma poi ogni tanto ci sono delle persone che mi dicono, guarda che i tuoi occhi parlano chiaro. Tutte le cose che non dici si vedono nelle tue microespressioni, tutte le delusioni, le difficoltà. Per cui penso che chi sappia guardare oltre, sappia capire anche questo mondo che ci viene. Che consiglio ti senti di dare a me che stai incominciando? Il consiglio che do a tutte le mie amiche che si vogliono approcciare ai social. E io dico sempre a loro, guarda il tuo vero talento. A quella cosa che hai sempre avuto timore perché c'era la voce dentro di te, che era il riflesso di quello che c'era fuori di te. Sono tutte quelle vocine che minimizzano quella tua passione, quella tua propensione. Ecco, falle tacere e buttati ed esperimenti perché c'è l'unica persona che può giudicarti se è te stessa. Grazie Eleonora. Grazie a te. L'intervista è finita. Ok. Adesso che ti ho conosciuto un po' di più, ti porto nel mio mondo. Vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare, la fotografia, e condividerti attraverso ciò che tu ami fare e che io ho scelto di fare, i contenuti social. Va bene. Mi ha colpito questo gioco, anche a livello cromatico, che quando vuoi fare luce su una cosa è perché si sta generando un'ombra. Quindi quella cosa lì, l'ombra lì, ti genera quella curiosità.